I royal fans hanno celebrato l'annuncio di uno speciale fidanzamento natalizio, con l'evento che si terrà il prossimo anno.La principessa belga Maria Laura si è fidanzata con William Isvi. La principessa Maria è la secondogenita, la figlia maggiore, della principessa Astrid e del principe Lorenz del Belgio.Il signor Isvi è nato a Parigi da madre britannica e padre franco marocchino. Punto lunedì 27 dicembre il Palazzo Reale Belga ha annunciato su Instagram, la principessa Maria Laura e il signor William Isvi si sono fidanzati. Il matrimonio avrà luogo nella seconda metà del 2022. Congratulazioni ai futuri sposi. La principessa Maria ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento nelle foto pubblicate su Instagram. È dotato di uno zaffero blu circondato da diamanti. Anche la fascia è tempestata di diamanti. Punto i fan reali si sono rivolti ai social media per celebrare l'annuncio.Jonathan Spitaels ha scritto su Twitter, che giornata fantastica per l'amore e il divertimento. Auguri! Couture Androyels ha aggiunto, congratulazioni più grandi.Un account Instagram non ufficiale su sua altezza reale la principessa Elisabetta, duchessa di Brabante, ha scritto, congratulazioni alla coppia felice. Spero che la loro vita come coppia sposata sarà piena di amore e felicità. La coppia si è incontrata a Londra nel 2015. Vivono ancora in città. M.R.I.V. è un banchiere di investimento e figlio di Filippi Svi, chief investment officer presso Mogador Capital. La principessa Maria è nona in linea di successione al trono belga, ma svolge raramente compiti reali.